Due famiglie rivali, i loro giochi di potere, un amore reso immortale da un poeta, la vera storia di Paolo e Francesca. Amante del Papa, la chiamavano sposa di Cristo, ma chi era? Giulia Farnese. Juan Borgia, figlio di Papa Alessandro VI, assassinato. Alessandro De Medici, figlio di Papa Clemente VII, assassinato, chi ha ucciso i figli dei papi? Paolo e Francesca, Giulia Farnese, i Borgia e i Medici. Odi e amori, intrighi, vendette e omicidi nelle corti italiane tra il Medioevo e il Rinascimento. Atlantide, storie di uomini e di mondi. Martedì alle 21.10 sulla 7. Immagina un dentifricio che ti faccia urlare di gusto. A Z Complete Expressions, con la freschezza inaspettata di Fruit Explosion. A Z Complete Expressions, un sorriso bello e sano dall'A alla Z. Il secchio non serve più. Con emulsio detergente pronto all'uso, ho più tempo per me. Si spruzza sui pavimenti e pulisce in un attimo. Emulsio pronto all'uso igienizzante. Emulsio, la luce che seduce. MGKVs, magnesio e potassio con creatina. Una fonte di energia, una risorsa per l'organismo. Da Pumpharma in farmacia. Aspettiamo un bambino. Diventerò padre. Diventerò padre! Aspettiamo un bambino. C'erò padre. Aspettiamo un bambino. C'erò padre. Ehi, c'erò padre! Diventerò papà! Dillo con Maxi Estate Team. 500 SMS e 500 MMS verso tutti. E 500 minuti di chiamate verso i team. Sarò padre! Una sensazione di fresca purezza. La stessa che trovi in infasi l'intimo Purity. Delicati ingredienti purificanti per una sensazione di freschezza assoluta. Infasi l'intimo Purity. La forza della sensibilità. Snack e vita snella. Fatti del bene ogni giorno. Da Saiva. Prova il nuovo fitness. Con fibre attive per una forma sbagliante.